Prendiamo il Vangelo di Matteo. Cominciamo dal capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Capitolo 5, versetto 31. 31, sì. Allora, innanzitutto qui al versetto 17 inizia un discorso che Gesù fa che riguarda alcune cose come venivano interpretate e venivano accettate sotto la legge di Mosè. Quindi fa un elenco di cose. Tra queste cose parla anche del matrimonio, del divorzio più che altro. Cioè, in questo insieme di argomenti, Gesù perché li cita uno dopo l'altro, no? Infatti, ad esempio, al versetto 31, ma lo dice anche dopo, ad esempio dice, fu detto, no? Al versetto 31 dice, fu detto, quindi gli antichi dicevano, nella legge stava scritto, capite? Cioè, prima di me, prima della grazia, prima del periodo della grazia, le cose stavano in quella maniera, capite? Questo è il senso del discorso. Quindi, prima le cose stavano così, ma adesso bisogna fare così. Ecco, questa è la premessa, allo scenario in cui Gesù sta portando questo insieme di insegnamenti che sono raggruppati nel capitolo 5, paragrafato come nella mia Bibbia è scritto Cristo è la legge antica, no? Quindi, Gesù inizia dicendo appunto che io non sono venuto per abolire la legge, al versetto 17, non sono venuto per abolire la legge o di profetti, io sono venuto non per abolire, ma per compiere, per compiere, per portare a compimento. Poi comincia a fare un insieme di discorsi, ad esempio al versetto 21 dice, voi avete audito che fu detto agli antichi, fu detto, non uccidere, e chiunque avrà ucciso, quindi sta riguardando, riguarda la legge. Il discorsi che Gesù fa in questi passaggi riguardano la legge, cioè qualcosa che Gesù sta portando a compimento, lo sta migliorando, capite? Cioè prima sotto la legge le cose stavano così, adesso invece ci sono dei cambiamenti. A noi ci interessa oggi parlare, abbiamo preso come argomentazione, quello del divorzio, quello del risposarsi. Quindi prendiamo questo argomento. E al versetto 31 dice così, fu detto, quindi nella parte antica, quindi Gesù come organizza il suo discorso, per spiegare alcune cose ai santi. Dice, prima nella legge e le cose stavano così, e adesso invece sono così, capite? Cioè a porte si vede la differenza tra quello che diceva la legge di Mosè e quello che invece dice Gesù Cristo, ci insegna Gesù Cristo. c'è questa non tanto contrapposizione, ma un portare a compimento qualcosa che non era perfetto, praticamente. E a riguardo del divorzio dice questo, fu detto, chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto del divorzio. E questo era scritto nella legge, chiunque ripudiava sua moglie doveva dargli un atto scritto con i motivi per cui la ripudiava. Perché poi con quell'atto questa donna poteva andare a sposarsi con qualcun altro. È chiaro che se veniva abbandonata, veniva lasciata per adulterio, stavano ben attenti a sposarsi una persona che era adultera, era riconosciuta come adultera. A parte che se la scoprivano come adultera, se osservavano bene la legge, doveva essere ammessa a morte. Quindi, siccome doveva essere ammessa a morte, potevano rimanere al limite i casi limiti, però non è che poteva scrivere adulterio se non erano sicuri. Comunque, la legge permetteva di lasciare la moglie, di mandare via la propria moglie. Va bene? Dice, quindi qui Gesù ha detto fu detto, quindi la legge diceva. Ma poi al versetto 32 lui dice ma io vi dico, quindi la legge diceva ma io, Gesù Cristo, la verità, diciamo, che porta, inizia il periodo della grazia, non tanto il principio dell'Evangelo, ce l'abbiamo, inizia con Giovanni Battista, con il messaggio di Giovanni Battista. Però Gesù è il centro del nuovo, della buona novella che viene annunziata in quel momento che Gesù parlava. Quindi, dalle parole di Gesù, l'insegnamento, che prima era in un modo, adesso dovrà essere in un altro modo. E dice così. Ma io vi dico, chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione, la fa essere adultera. E chiunque sposa con lei che è mandata via, commette adulterio. Quindi qui, qui dice, qui iniziano i primi problemi, perché praticamente ci sono anche quelli che nella scrittura non è che cercano la verità, perché noi cerchiamo la verità esaminando la somma della parola. Ci sono quelli invece che non cercano la verità, ma cercano un appiglio, cercano solo un appiglio, non gli interessa tutta la verità, non gli interessa conoscere tutto quello che la parola di Dio dice su tutto quell'argomento. Capite? Cioè, la parola mettendo insieme tutti i passi che parlano di quell'argomento riusciamo, con la grazia di Dio, con la sua sapienza e l'intendimento che lui ci dà, riusciamo ad arrivare a comprendere determinate cose, però solo guardando la somma della parola, non guardando solo un pezzettino. Comunque, quindi qui vedete, qui il ragionamento va visto in questa maniera, cioè che nella legge veniva detto che si poteva mandare via la moglie e quindi sposarne un'altra, Gesù invece sta dicendo no, tu non la puoi mandare via, perché se la mandi via la fai essere adultera. Capite? Quindi questo passaggio qui si spiega in questa maniera, cioè salvo che, perché per adulterio, per fornicazione, la moglie la puoi effettivamente mandare via, la moglie può ripudiare il marito adultero, quindi la separazione è effettivamente concessa in casi gravi, in casi gravi, ma il matrimonio comunque non cessa di esistere, il matrimonio, il vincolo matrimoniale non viene meno, anche se si commette adulterio, perché vedremo, guardando la somma della parola, che l'unico elemento che scioglie il legame matrimoniale è la morte, è la morte di uno dei coniugi. Capite? quindi qui sta dicendo salvo che per cagione, cioè se la manda via, salvo che per cagione di fornicazione la fa essere adultera, e sì, mandandola via la tratta come un'adultera, però se non lo è adultera, allora il marito mandandola via la fa essere adultera. Capite? Ma se quella donna viene mandata via perché adultera lo è di già, quindi non viene fatta dal marito mandandola via adultera, capite? Non viene fatta dal marito ma lo è già perché effettivamente è commessa adulterio. Quindi bisogna comprenderlo in questa maniera, questo passaggio. Purtroppo ci sono dei passaggi, due passaggi, questo è un altro che sono malinterpretati che effettivamente il Signore li mette come una pietra di inciampo per alcuni e se non gli è dato di intendere purtroppo errano e vanno deviano quanto alla verità. Quindi vedete quello che conta, quello che conta è la somma della parola, capite? E pregare Dio, avere intendimento e anche considerare la somma della parola, cioè non è che solo un appiglio, un passaggio ci può determinare una cosa così importante. Anche considerate il fatto che comunque se ne è parlato ampiamente nelle scritture, va bene? Se ne parla. Quindi se la scrittura ne parla noi dobbiamo leggere per capire bene, non è che dobbiamo capire quello che ci piace a noi, no, non dobbiamo arrivare alla conclusione che ci piace, dobbiamo arrivare a conoscere qual è il senso delle cose di Dio, qual è la volontà di Dio, per non sbagliare, sia nel parlare agli altri e sia nel mettere in pratica. E quindi qui questo passaggio quindi in Matteo 5,31 la cosa importante che voglio che voi apprendiate è quel passaggio lì viene citato da Gesù nella maniera che fu detto dagli antichi e nella legge questo, ma io vi dico quindi da Gesù in poi le cose cambiano anche se la legge permetteva di mandare via le persone, però da Gesù in poi non è più possibile, non è più possibile mandare via la moglie e se proprio avviene che uno manda via la moglie la scrittura dice, la somma della parola dice, se la mandi via o se la moglie ripudia il marito comunque deve stare così, non si può, non è legittimato a risposarsi un'altra moglie, la moglie che ha ripudiato il marito non è legittimato a sposarsi un altro uomo, quindi questo è il concetto, Matteo 5,31 Gesù dà questo insegnamento che in qualche modo attacca qualcosa che era radicato e che faceva piacere ai farisei, agli uomini faceva piacere quel discorso che potevano fare un documento e mandare via la moglie perché così se ne sposavano un'altra, capite? Ma con Gesù non è più così, con Gesù questo elemento cambia, infatti questo cambiamento ha creato grande turbamento nei farisei, si sono agitati, eh sì, si sono agitati, hanno capito bene l'insegnamento di Gesù qual'era. E li ritroviamo i farisei, adesso dobbiamo andare al capitolo 19 di Matteo, noi ritroviamo al capitolo 19 di Matteo i farisei che attaccano Gesù su questo punto, capite? Cioè, quello era il primo tempo, il primo momento in cui Gesù aveva portato un insegnamento, ma adesso siccome la cosa gli dava enormemente fastidio ai farisei, la vogliono approfondire, la vogliono approfondire. infatti infatti cosa cosa dicono? Siamo al capitolo 19 e qui il discorso con Gesù sul divorzio viene approfondito maggiormente e un po' più lungo. Allora, leggiamo dal versetto 3 e dei farisei si accostarono a lui tentandolo e dicendo è egli lecito di mandare via per qualunque ragione, per qualunque ragione. La propria moglie ed egli rispondendo disse loro non avete voi letto che il creatore da principio gli creò maschio e femmina e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne tal che non sono più due ma una sola carne quello dunque che il Dio ha congiunto l'uomo non lo separi. Vedete cosa è avvenuto poi continuiamo è avvenuto qui che avendo Gesù insegnato quello che abbiamo detto prima che praticamente Gesù fa capire che non si poteva mandare via la moglie e questo ha dato enormemente fastidio ai farisei e sono tornati alla carica come dire ma come pure Mosè ce l'ha insegnato è vero che Mosè lo aveva insegnato però guardate cosa dice Gesù come risponde Gesù Gesù risponde dicendogli che il Dio che cosa aveva creato aveva creato un uomo e una donna che si sposassero quando sono tutte e due in vita e quel congiungimento fa di quelle due persone una stessa carne una sola carne e c'è scritto qui Gesù dice quello che Dio ha congiunto l'uomo non lo può separare cioè non lo può dividere sì non lo può dividere allora quindi questo legame che si viene a creare una volta sposati tra marito e moglie questo legame davanti a Dio è per sempre perché perché lo ha voluto il Signore capite cioè il Dio ha stabilito che questa unione sia una cosa che diventano i due diventano come uno solo e non è quello che Dio ha stabilito non si può separare cioè l'uomo non può decidere al posto di Dio così Dio ha deciso infatti se io apro una parentesi per farvi capire come ragionano oggi oggi dicono sentono no lui dice mia moglie mi ha abbandonato poi sentono la moglie dicono mio marito mi ha tradito chi c'ha ragione come cosa fanno questi insensati giudici iniqui perché sono giudici iniqui dicono o all'uno o all'altro che lui si può risposare non è a colpe e quindi cosa come stanno parlando questi questi parlano in maniera che contrastano contrastano quello che Dio ha unito questi qui lo dividono capite lo dividono questi sono uomini che dividono dove Dio dice di non dividere questi dividono dove quando Dio dice invece dividetevi dalla menzogna no questi uniscono no devi stare unito alla menzogna e dividerti da tua moglie praticamente fanno tutto il contrario di quello che la scrittura insegna capite perché sono giudici iniqui non sono in grado di fare corrette valutazioni perché a loro manca la sapienza che Dio gli dà vengono indurati di cuore e di mente capite e non esaminano non arrivano a conclusione corretta non si rifiutano proprio di esaminare di esaminare l'argomento su tutti i passi delle scritture poi Gesù quindi ha risposto loro perché allora ai giudei che cosa interessava ai giudei interessava no la domanda era è egli illecito mandare via per qualunque ragione perché perché avevano capito dal discorso precedente che una ragione ci poteva essere per mandare via la moglie anche se però il risposarsi non era ammissibile non è ammissibile è ammissibile mandare via la moglie adultera è ammissibile che la moglie ripudi il marito adultero ma non è ammissibile risposarsi nella legge di Cristo però qui ai farisei gli dava fastidio perché cosa volevano cosa volevano cosa volevano sapere loro volevano avere la possibilità di mandare via la moglie per qualunque motivo era questo che gli premeva non solo per casi importanti ma per per quelli per diversi motivi cioè loro avevano volevano la possibilità cercavano questo appiglio di la possibilità di poter mandare via la moglie per diversi motivi qualcuno dice che a quei tempi c'erano due 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 gruppi divisi tra i giudei che uno diceva che potevano mandare via la moglie per tanti motivi e un altro gruppo più ristretto che diceva no si possono mandare via le moglie solamente per motivi diciamo consistenti come l'adulterio appunto vi faccio un esempio se una moglie non cucinava bene secondo loro secondo alcuni potevano mandare via la moglie capite però non è un motivo a cucinare ci si impara quindi non doveva essere non era non era un motivo lecito mandare via la moglie per questo motivo e qui sotto la grazia cosa è successo Gesù ha portato a compimento ha portato ha compiuto anche questo tipo di comandamento e lo ha riportato alla sua origine perché infatti nelle sue parole dice al principio le cose non stavano così al principio le cose stavano che il Dio ha fatto un uomo e una donna li congiungeva in matrimonio e questo diventava inseparabile il principio era così solo dopo e lo leggiamo adesso solo dopo per la durezza dei cuori di Israele gli è stato permesso di mandare via la moglie quindi dei cuori duri dei cuori che non erano buoni capite cosa che tra i santi questo di avere i cuori dure non deve esistere non c'è non ci può essere la durezza di cuore che il credente il figliolo di Dio deve avere fede in Dio deve avere un cuore buono un cuore un cuore un cuore diciamo guidato dallo Spirito Santo non dei cuori duri che non credono a quello che dice il Signore e continuando la lettura continuando la lettura è scritto cioè praticamente c'è la domanda dei farisei se era lecito mandare via la moglie per qualunque motivo Gesù risponde che non avete voi letto quindi dal principio capite quindi Gesù si rifà prima della legge di Mosè perché ciò che è stato scritto prima non è venuto meno con la legge di Mosè ma la legge di Mosè solamente per la durezza di quei cuori ha portato quella modifica temporaneamente capite fino alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e dice che al principio non era così e Dio congiungeva marito e moglie in maniera inscindibile però i farisei continuano e dicono essi gli dissero i farisei che mettevano tentavano Gesù che lo provocavano essi gli dissero perché dunque comandò Mosè di darle un atto di divorzio e mandarla via sì perché Gesù nella risposta che aveva dato prima ancora non aveva compreso il discorso che il comandamento che comunque era dato sotto la legge di Mosè allora subito i farisei l'hanno impugnato e gliel'hanno diciamo messo davanti no e Gesù risponde dice Gesù disse loro fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli ma da principio non era così vedete Gesù sta riportando tutto al principio cioè quello che Gesù voleva portare non era una cosa nuova voleva riportare il matrimonio l'inscendibilità del matrimonio a com'era prima della legge di Mosè praticamente questo era l'insegnamento che Gesù stava portando e poi continuando dice ed io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando non sia per cagione di fornicazione e ne sposa un'altra commette adulterio i discepoli gli dissero se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna non conviene prendere moglie cioè qui effettivamente c'è un passaggio particolare che parla più che altro si riferisce alla separazione alla possibilità che ci sia di separazione ma non permette il risposarsi infatti i discepoli del discorso che Gesù ha fatto rispondendo ai farisei capiscono che il legame è inscindibile infatti anche i discepoli di Gesù si preoccupano perché questa la questione che si sentivano liberi di mandare via la moglie faceva comodo a tutti a quell'epoca capite a tutti però Gesù portava vedete una modifica che non era da poco cioè riportava tutto com'era il principio e nel principio i due diventavano una cosa sola e non era più e Dio congiungeva queste persone marito e moglie e nessun uomo nessun uomo poteva separarli cosa hanno capito i discepoli dicono se tale è il caso dell'uomo rispetto alla donna non conviene prendere moglie cioè si preoccupavano ma scusate ma se non ci possiamo dividere se non ci possiamo dividere non conviene non conviene prendere moglie cioè meglio rimanere liberi completamente capite questo è il discorso che gli fecero che gli fecero i discepoli ma poi Gesù risponde anche a loro e dice ma egli rispose loro non tutti sono capaci di praticare questa parola ma quelli soltanto ai quali è dato cioè perché è un dono poi vediamo che lo ribadisce anche l'Apostolo Paolo è un dono quello di di ricevere una moglie è anche un dono quello di non ricevere moglie capite c'è chi ha un dono in una maniera di sposarsi e chi ha invece il dono di non sposarsi perché c'è dopo Paolo lo spiega c'è differenza perché colui che non si sposa si occupa di meno delle faccende del mondo cioè perché è un marito che ha moglie deve dedicarsi anche alla moglie deve piacere alla moglie una moglie che ha marito deve piacere al marito deve dedicarsi al marito capite questo cosa vuol dire vuol dire che se si sta dedicando al marito così come quando uno si dedica al lavoro secolare se tu ti stai dedicando alle cure mondane alle cure di tutti i giorni alle cose di questo mondo che sono naturali attenzione non sono un peccato in se stesse però se tu ti dedichi a quello ti stai distraendo dalle cose che riguardano il Signore cosa che se uno non è sposato ma si è ricevuto il dono da Dio però il dono deve essere ricevuto da Dio se uno non è sposato se uno ad esempio è chiamato al ministerio da Dio è chiamato a servirlo e gli ordina di vivere dell'Evangelo quindi non deve lavorare vedete ha meno distrazioni ha molte meno distrazioni e si può dedicare maggiormente totalmente alle cose che riguardano il Signore alle cose che riguardano l'annuncio dell'Evangelo la cura di una comunità insomma o altre cose anzi il pastore e gli anziani devono essere sposati quindi e devono avere anche dei figli quindi in altri tipi di servizi come l'Apostolo o altri ministeri quindi vedete è vero ci sono alcuni punti che sembrano avvalorare la tesi che se lo mandi via per fornicazione ad ulterio praticamente cioè che puoi mandare via per fornicazione ad ulterio sembrerebbe che questo poter mandare via per quei motivi ti puoi anche risposare ma non è così perché comunque il Signore non c'è nessun passaggio che ammette nelle scritture che ammette c'è diciamo un'ombra ecco un'ombra c'è lascia la possibilità a qualcuno di poter sbagliare questo perché perché le persone superficiali le persone che si approcciano in maniera sbagliata alla parola di Dio dopo inciampano capite inciampano nella parola e invece la somma della parola ci insegna che assolutamente non ci si può risposare ora andiamo a leggere queste deduzioni che stiamo facendo guardate l'Apostolo Paolo a quale conclusione è arrivato al capitolo di Romani al capitolo 7 cioè dai cristiani e anche dagli Apostoli e dall'Apostolo Paolo il matrimonio è considerato inscindibile questa inscindibilità che credeva l'Apostolo Paolo sul matrimonio lo spinge a paragonare il legame che c'era che c'è nel matrimonio con il legame che noi avevamo che quando eravamo perduti eravamo sotto la legge sotto la legge della maledizione praticamente usa adesso lo andiamo a leggere capitolo 7 di Romani usa questo paragone per far capire che come il matrimonio il legame matrimoniale si può sciogliere solamente con la morte di uno dei coniugi così il legame che c'era con la vecchia vita con la maledizione della legge si può sciogliere solamente con la morte in Cristo Gesù perché noi quando siamo nati di nuovo siamo morti in Cristo Gesù siamo stati liberati con quella morte noi siamo stati liberati dalla maledizione della legge capite quindi quel vincolo che noi quella schiavitù che noi eravamo schiavi del peccato quel 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 legame che c'era è stato possibile vincerlo solamente attraverso la morte di Cristo Gesù e Paolo spiega con questi due legame facendo questo paragone spiega che dice che come facendo un'uguaglianza un paragone come nel matrimonio si scioglie solamente con la morte di uno dei due così la salvezza praticamente la liberazione dalla maledizione della legge si può ottenere solamente attraverso la morte di Cristo ora se Paolo e questo paragone è possibile solamente se se il matrimonio era ritenuto da Paolo inscindibile capite perché perché se in qualche maniera il matrimonio fosse considerato inscindibile che si potesse scindere quindi si potevano risposare allora il paragone non è valido più perché ciò può voler dire anzi vuole dire che vuole dire che se è possibile risposarsi anche più volte vuol dire che la salvezza si può ottenere in diversi modi capite cioè il paragone che ha fatto Paolo è valido solamente se anche il matrimonio è inscindibile perché noi prendiamo per buono che è soltanto attraverso la morte di Cristo che noi che noi adesso possiamo appartenere a un altro e non più al regno delle tenebre ma adesso apparteniamo a Cristo capite il passaggio di appartenenza dal 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 diavolo praticamente dal nemico a Cristo è possibile solo attraverso la morte di Cristo così come il risposarsi è possibile solamente con la morte di uno dei coniugi capite quindi anche questo paragone che fa Paolo ci porta a come gli altri che ha fatto Gesù ci porta a capire che il vincolo matrimoniale fino a quando i due sono vivi i coniugi sono vivi è inscindibile è ammesso la separazione questo sì l'ammissione della separazione perché può avvenire che in caso di adulterio in caso ci sia comunque una separazione se avviene una separazione devono stare comunque così questo lo leggiamo sempre lo spiega dopo Paolo nell'altra epistola ai Corinzi adesso leggiamo focalizziamo i punti che ci riguardano della lettera ai Romani del paragone che Paolo fa dell'appartenenza noi prima appartenevamo al regno delle tenebre al nemico eravamo schiavi del nemico noi appartenevamo a lui ma per passare ad appartenere a Cristo siamo dovuti passare attraverso la morte di Cristo Gesù solo attraverso la morte di Cristo si può appartenere a Cristo non è che puoi passare da altri posti e questo lo prende come paragone cioè per spiegare questo Paolo prende come paragone il legame che c'è matrimoniale capite ma se il matrimonio si potesse scindere in diversi modi non poteva prendere il matrimonio come unico elemento per paragonare alla salvezza in Cristo Gesù perché essendoci una sola salvezza anche nel matrimonio c'è una sola possibilità per sciogliere il vincolo matrimoniale ed è quello lì della morte di uno dei congi ora leggiamo cosa dice Paolo al capitolo 7 dei Romani o ignorate voi fratelli poiché io parlo a persone che hanno conoscenza della legge che la legge signoreggia l'uomo per tutto il tempo che egli vive infatti vedete infatti cioè a conferma del fatto vuole dire a conferma del fatto che la legge signoreggia l'uomo fino a quando egli vive infatti la donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive ma se il marito muore ella è sciolta dalla legge che la lega al marito vedete solo con la morte solo con la morte noi sciogliamo i legami della legge di cui eravamo schiavi prima solo con la morte di Cristo abbiamo potuto cambiare diciamo signore prima ci signoreggiava il maligno adesso ci signoreggia Cristo perché siamo stati comprati attraverso la morte e così anche il matrimonio si veniva liberati dal vincolo matrimoniale solo attraverso la morte di uno dei coniugi vedete cosa dice ancora il versetto 3 ond'è che se mentre vive il marito ella passa ad un altro uomo sarà chiamata adultera ma se il marito muore ella è libera di fronte a quella legge è libera di fronte alla legge del matrimonio se muore il marito è libera e non c'è più nessun legame è impossibile però chi l'ha decretato quella fine di quel legame chi l'ha decretato l'uomo no l'ha decretato il Dio perché è Dio che fa vivere fa morire chi vuole quindi è comunque stabilito da Dio che si interrompesse anche quella legge sul matrimonio quel legame sul matrimonio capite però è Dio che è intervenuto non l'uomo con i suoi giudizi diciamo diciamo giudizi ingiusti perché non conosci tutti i fatti non li conoscerai mai inguisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo così guardate perché prima ha fatto tutto questo paragone poi dice vedete così fratelli miei anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro che infatti la moglie prendiamo la moglie la moglie quando è sposato con uno appartiene a lui e sua moglie se muore lui e si sposa un altro appartiene a quell'altro capite però c'è una morte in mezzo che separa l'appartenenza da uno all'altro e così è per noi prima noi appartenevamo al regno delle tenebre abbiamo cambiato appartenenza adesso siamo stati comprati ma da che cosa mediante la morte di Cristo Gesù noi siamo morti in Cristo capite c'è una morte che ci ha cambiato comunque padrone e signore noi abbiamo cambiato padrone e signore perché c'è stata una morte di mezzo che è quella di Cristo noi quando siamo nati di nuovo siamo morti con Cristo capite e siamo potuti quindi rinascere spiritualmente spiritualmente rinascere ed appartenere a Cristo non più al vecchio al vecchio signore che ci padroneggiava che era il diavolo capite quindi rileggiamo così fratelli miei al versetto 4 7 e 4 di Romani così fratelli miei anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro cioè a colui che è risuscitato dai morti e questo affinché portiamo del frutto a Dio poiché mentre eravamo nella carne le passioni peccaminose destate dalla legge agivano nelle nostre membra per portare del frutto per la morte ma ora siamo stati sciolti dai legami della legge essendo morti a quella che ci teneva soggetti tal che serviamo in novità di spirito e non in vecchiezza di lettere quindi vedete anche qui questo paragone che fa Paolo che paragona la salvezza che si ottiene solamente attraverso la morte di Cristo di Cristo Gesù c'è quindi uno scioglimento di quel legame di appartenenza che quando eravamo schiavi del peccato schiavi del maligno che noi vivevamo la nostra vita nel peccato ora attraverso la morte di Cristo noi siamo abbiamo cambiato padrone e signore che è Gesù Cristo attraverso la morte solo attraverso la morte potevamo essere liberati da quella schiavitù solo quella non ci sono altre vie l'unica via della salvezza era Cristo Gesù è Cristo Gesù questo tipo di salvezza Paolo per spiegarlo perché Paolo sta cercando di far capire ai romani che questo tipo di salvezza può venire solamente attraverso Gesù Cristo ma lo paragona a quel legame inscindibile che è il matrimonio se il matrimonio Paolo non lo considerasse inscindibile praticamente non avrebbe potuto fare questo paragone avrebbe mentito capite perché come ci sarebbero stati più possibilità di sciogliere il legame matrimoniale quindi la moglie si poteva sposare altri uomini così noi potevamo essere sciolti dal peccato sciolti dal peccato anche senza passare dalla morte di Cristo avete capito non è possibile cioè la morte di Cristo blocca anche con questo paragone la possibilità di poter passare a seconde nozze lo blocca assolutamente non è possibile biblicamente secondo la volontà di Dio e questo vedete quindi seppur abbiamo letto dei passaggi che uno può anche poteva forzatamente perché vuole lui giungere a quella conclusione senza guardare e attenersi alla somma della parola se uno guarda certi passaggi che sono comunque diciamo riferiti più alla separazione che alla possibilità di risposarsi se uno non guarda la somma della parola sicuramente giunge a conclusioni errate ma perché giunge a conclusioni errate giunge a conclusioni sbagliate perché ci vuole arrivare lui gli fa comodo gli fa comodo cioè sceglie la via più comoda tu dici alle persone sì risposatevi cosa non ce ne importa cosa te ne importa se vanno all'inferno come adulti e purtroppo questo tipo di insegnamento ha fatto sì che nelle chiese era l'insegnamento più semplice era l'insegnamento poter permettere a tutti di risposarsi era l'insegnamento dello Stato l'insegnamento più semplice anche per i membri nessuno ti abbandonava tutti erano contenti erano tutti felici e contenti no perché la coscienza li accusa capite chi si trova in uno stato purtroppo di peccato la coscienza lo accusa non è che lo lascia libero capite non lo lascia libero ora andiamo a leggere come affronta il discorso Paolo spiegandolo ai Corinzi ai Corinzi l'Apostolo Paolo parla parla più lungamente per quanto riguarda il matrimonio però la somma alla fine è tutta concorde non è che si contraddice capite non ci sono contraddizioni e leggiamo il capitolo 7 di prima a Corinzi leggiamo dal versetto 1 or quant'è alle cose delle quali mi avete scritto è bene per l'uomo di non toccar donna ma per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito il marito renda alla moglie quel che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito la moglie non ha potestà sul proprio corpo ma il marito e nello stesso modo il marito non ha potestà sul proprio corpo ma la moglie e qui parliamo del matrimonio e qui stiamo parlando del matrimonio quindi non stiamo parlando del divorzio per adesso nel matrimonio come funziona funziona che se Dio ha dato una moglie a un uomo e ha dato un uomo a una moglie per non peccare dice per evitare le fornicazioni quindi può accadere che marito e moglie certi periodi di tempo possano astenersi dai propri rapporti però ciò non è che può durare lungamente perché se no uno dei due potrebbe cadere nel peccato di adulterio e di fornicazione in quel caso se una donna o un uomo rifiuta di dare quello che gli che gli spetta al marito si rifiuta evita insomma cerca 50.000 scuse e dopo quello cade nel peccato tu non puoi dire che lui è l'adultero attenzione perché sei tu che l'ha indotto in adulterio e questo è successo effettivamente è successo che in certi matrimoni il marito non ha non ha non ha dato quello che doveva dare alla moglie quello che gli spettava e dopo la moglie essendo tentata da qualcuno è caduta però la colpa la colpa non è cioè non è che è giustificata l'adultero no l'adultero è colpevole ma attenzione tu non sei innocente al cento per cento perché tu non hai dato a tua moglie quello che gli spettava come dice la scrittura capite quindi per chi è sposato queste cose le deve ricordare queste sono scritte non è che sono scritte così lì queste queste cose scritte qui sono poche righe non è che poteva entrare molto nei dettagli l'apostolo Paolo però la questione è questa che se uno ci tiene alla propria famiglia un all'unità della propria famiglia alla proprio marito alla propria moglie si ricordi che deve dare al suo coniuge quello che gli spetta non è che può può far passare no se all'altro gli necessita non è che può far passare tanto tempo anni capite se no dopo quello è chiaro che che se si è sposato no se ha ricevuto il dono di sposarsi per non cadere in fornicazione e tu non gli dai tu marito o tu moglie non gli dai quello che gli spetta ma è chiaro che la stai spingendo o lo stai spingendo a un adulterio capite no non si può fare è scritto anche questo badate bene quindi il matrimonio è una cosa che una volta raggiunto si deve continuare a lavorarci sopra si continua a elaborare il matrimonio a coltivare capite non è arrivato si spegne tutte le luci e buonanotte ognuno si arrangia per conto suo no il legame c'è rimane per sempre però ha bisogno anche che si osservino determinate cose andiamo avanti con quello che è scritto non vi private l'un dell'altro se non di come un consenso quindi quando ci si priva l'uno dell'altro bisogna essere d'accordo poi dice per un tempo affin di darvi alla preghiera e poi ritornate assieme onde satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza vedete è chiaro qua non ci sono bisogno di più dettagli il discorso generale qui è già chiaro solo se c'è un motivo ci sono motivi ben validi per servire il Signore allora allora si può diciamo ci si può astenere però se non ci sono motivi marito e moglie devono stare assieme capite ma questo dico continua l'Apostolo Paolo ma questo dico per concessione non per comando perché io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio l'uno in un modo l'altro in un altro l'abbiamo già citato prima e qui lo dice l'Apostolo Paolo c'è chi ha il dono di sposarsi e riceve una moglie in dono un marito in dono e c'è chi c'è il dono invece di non sposarsi c'è chi ce l'ha in un modo e chi ce l'ha nell'altro capite qui ognuno in base al dono che riceve da Dio perché sono tutte e due dei doni non è che riceve un dono solo chi si sposa riceve un dono da Dio anche chi non si sposa perché riceve la capacità la forza di non sposarsi cioè di resistere a quello che deve resistere senza senza sposarsi capite mentre chi riceve una moglie o un marito riceve un altro tipo di dono il Dio vuole sceglie lui come deve fare c'è chi con chi fa in un modo e con chi opera in un altro modo ma sono dei doni entrambi sono dei doni quindi ognuno ha ricevuto un dono quello che Dio ha stabilito poi dice al versetto 8 prima corinzi 7 versetto 8 dice ai celibi e alle vedove voglio che nottiate questo adesso l'apostolo Paolo sta parlando ai celibi e alle vedove cosa vuol dire questo che sono esclusi i coniugi dal discorso che lui fa adesso capite la scrittura a volte ci sono dei punti difficili è vero da comprendere ma altre volte sono semplici e ci dobbiamo attenere strettamente a quello che è scritto in questo caso è chiaro si sta riferendo ai celibi che sono quelli che non si sono mai sposati e alle vedove quelli che gli è morto o il marito o la moglie capite allora dice Paolo ai celibi e alle vedove però dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io perché l'apostolo Paolo non era sposato quindi lui consigliava di starsene tranquilli per pensare maggiormente alle cose del Signore non avere distrazioni praticamente però dice se è possibile state come sto anch'io no? ma dice ma se non si contengono quindi se proprio hanno il desiderio di sposarsi sposino perché è meglio sposarsi che ardere perché ci sono quelli che hanno un desiderio talmente forte magari che ardono dentro di loro e comunque non servono il Signore perché sono concentrati nell'ardere nel loro fuoco nella loro concupiscenza che comunque anche se sono non hanno moglie non hanno marito ardono dentro di loro e comunque non hanno comunione con Dio non stanno combinando niente allora per questi è meglio è meglio sposarsi e Paolo lo dice chi sono questi che è meglio sposarsi perché alcuni citano questo vedete è meglio sposarsi che ardere lo dicono per tutti lo dicono anche per i divorziati no qua Paolo questa cosa l'ha detta solo ai celibi e alle vedove ma noi sappiamo leggere o no perché perché è chiaro il discorso perché subito dopo dice ma quindi contrariamente quanto ho detto ai ai celibi e alle vedove adesso Paolo parla ai coniugi capite quindi fa un discorso adesso che vale per i coniugi quindi il discorso che valeva per i celibi e le vedove che si potevano risposare per e me era meglio sposarsi che ardere l'ha fatto già ha consigliato di non sposarsi ma se proprio non ce la fate dice sposatevi poi passa ai coniugi e fa tutt'altro discorso capite fa altri discorsi quindi il discorso che ha fatto ai celibi e alle vedove è una cosa il discorso che fa i coniugi è un'altra quindi noi in base se ci troviamo ad essere o celibi o vedove o coniugi dobbiamo prendere il discorso che ci riguarda capite quello che ci riguarda non quello che non ci riguarda per giustificare il peccato no e vediamo cosa dice ai coniugi guardate cosa dice ma ai coniugi ordino non io ma il signore l'ordine viene dal signore che la moglie non si separi dal marito vedete e se mai si separa rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito ma mi sembra una cosa così chiara vedete qui dice ai coniugi ordino non io ma il signore che la moglie non si separi dal marito non ci può essere separazione però se proprio si separa quindi ancora vedete qui perché la scrittura come abbiamo già detto può ammettere i casi in cui la moglie o il marito possa separarsi dal coniuge si può avvenire anche questo diciamo rimane in una forma in una diciamo in una situazione comunque confermata biblicamente ci può può avvenire la separazione noi siamo contrari il più possibile noi siamo sempre per il perdono affinché la separazione non avvenga in nessun caso però purtroppo se proprio la cosa non può andare avanti è chiaro che prima di ammazzarsi in casa è preferibile separarsi però rimane 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 nel fatto che una volta che ci si separa non ci si può risposare assolutamente questo è vietatissimo questo è vietato qui si diventa adulteri come ha detto Gesù se si passa ad un altro marito ad un'altra moglie se uno non ce la fa si deve riconciliare col marito o riconciliare con la moglie questo è quello che che Dio ha stabilito di ritornare in caso di separazione di ritornare da quella moglie di quel marito che Dio ha stabilito Dio ha trovato certo è il Signore anche questo dobbiamo dire essendo un dono di Dio il matrimonio diciamo come dono viene data anche anche la moglie al marito e viene dato un marito alla moglie che hanno pregato il Signore affinché gli fosse dato un marito o una moglie ed è un dono che Dio dà non è che siamo noi che ce li cerchiamo come ci piacciono a noi capite non è l'uomo che se li cerca se un uomo teme Dio cerca il Signore aspetta di trovare quello che il Signore il marito o la moglie che ha stabilito per lui perché è questo che ti farà felice se te lo cerchi tu cosa vai a trovare non è non per forza è quello che che tu ti sei andato cioè può non essere quello che tu ti sei cercato per forza cioè quello che Dio ha stabilito per te quindi comunque per i giovani la moglie e il marito che vi cercate che riceverete dovete chiederla al Signore poi il Signore in qualche maniera ve lo farà sapere c'è chi ha ricevuto rivelazioni c'è chi con quale ha fatto in maniera potente ci sono altri che semplicemente si sono conosciuti hanno iniziato a volersi bene hanno pregato il Signore comunque ha dato qualche conferma e si sono sposati e sono andati bene e vivono e vivono insieme è il Signore che stabilisce ogni cosa quindi siamo arrivati al versetto 11 e vedete dice che la moglie non si separi dal marito ma dice anche e chi è il marito? non lasci la moglie sì questo è l'ordine ai coniugi cioè i credenti i coniugi credenti hanno l'obbligo di stare assieme alcuni obblighi li abbiamo detti prima e devono stare anche assieme capite? non si devono lasciare questi sono gli ordini del Signore ma se mai avvenga che comunque vengano si lascino non possono assolutamente risposarsi ma gli altri dico io non il Signore se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui non la lasci e la donna che ha un marito non credente se gli consente ad abitare con lei non lasci il marito perché il marito non credente è santificato nella moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente altrimenti i vostri figlioli sarebbero impuri mentre ora sono santi quindi qui Paolo parla del matrimonio che ha può avere diverse sfaccettature cioè cosa succede quando siamo il Signore in una coppia ne salva uno e non tutte e due almeno non subito qui dice Paolo la parola di Dio dà ordine anche a queste persone come si devono comportare quindi il credente non può separarsi dal non credente il marito credente la moglie credente se il suo coniuge non è credente cioè l'obbligo del marito della moglie credente è quella di non separarsi cioè non è lui quello che se ne deve andare però può avvenire dice dice qui dice ancora continuando dice però se il non credente si separa si separi pure in tali casi il fratello o la sorella non sono vincolati cioè attenzione qui sta dicendo il vincolo qual è quello che sta dicendo sopra prima cioè di stare assieme attenzione non sta rimettendo in discussione il matrimonio perché il matrimonio è un ordine di Dio che vale per tutti credenti e non credenti cioè l'adultero il fornicatore vale per i credenti e per i non credenti certi comportamenti valgono per tutti non è che valgono solo per i non credenti o solo per i credenti e qui dice che il vincolo di vivere assieme di non lasciare la moglie di vivere quindi assieme sotto lo stesso tetto ce l'ha il credente ma il non credente se dice io voglio adorare un altro Dio non mi sta bene che tu ti sei convertito a Gesù Cristo e se ne va il non credente tu credente non lo puoi obbligare a stare sotto il tuo tetto praticamente non lo puoi obbligare cioè tu non è che lo devi inseguire e dire no tu per forza devi stare legato a me devi stare con me se è il non credente ad andarsene via non sei obbligato a vivere insieme però attenzione è il vincolo di vivere insieme che viene meno per stare in pace perché se quella se quello lì o lei o lui o lei se ne vanno come non credenti da non credenti se se ne vanno tu non ci puoi fare niente non hai l'obbligo di viverci per forza sotto lo stesso tetto perché altrimenti tu inseguiresti tuo marito tua moglie che non ti vuole non vuole stare con te tu lo inseguiresti perché vuoi per forza stare con lui quindi lo spingeresti in maniera forzata e succederebbero delle cose magari più gravi capite quindi in quel caso il signore cosa stabilita stabilito che possono non vivere assieme se il non credente decide di andarsene è libero di andarsene è chiaro che il credente cosa deve fare deve pregare il signore che il signore lo salvi il coniuge non credente e che lo mantenga a casa tranquillo e sereno capite questo è il compito che ha il credente e poi il signore opererà nel cuore di quella persona come lui vorrà se nel suo cuore gli mette se gli mette in cuore di andarsene via vuol dire che alla fine era per voi era meglio così se gli mette in cuore di rimanere perché gli sta bene così e allora quello è stato sempre la volontà del signore ma Dio vedete dice ancora versetto 15 ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace quello che vi dicevo cioè se il non credente se ne vuole andare non vuole stare non vuole vivere sotto il nostro tetto sotto lo stesso tetto con un credente per stare in pace purtroppo bisogna lasciarlo andare è così altrimenti ci sarebbe una guerra continua è quello che che non ci deve essere insomma in una chiesa in una famiglia cristiana perché o moglie che sei tu che salverai il marito ovvero tu marito che sei tu se salverai la moglie cioè qui comunque pone il dubbio cioè alla fine noi non sappiamo se Dio ha stabilito che anche la moglie o il marito che per ora non sono convertiti siano salvati non lo sappiamo però attenzione non dice qui che non saranno salvati per forza dice solamente che non lo sappiamo cosa ci porta a fare questo questo ci porta a pregare il Signore affinché li salvi e questo è importante quindi per noi fino a quando non riceviamo un comandamento da Dio che dice no non pregare tanto non lo salverò noi dobbiamo pregare affinché il Signore salvi il nostro coniuge non credente capite quindi siamo chiamati a fare questo se abbiamo chi ha un coniuge non credente è chiamato a pregare per la sua salvezza e che il Signore gli doni la nuova nascita per poi avere una completa comunione a casa in famiglia del resto poi il versetto 17 dice del resto ciascuno seguiti a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore e nella quale si trovava quando il Dio lo chiamò questo passaggio è fondamentale perché in mezzo a tutto questo disordine questo è un passaggio importantissimo che ci fa risolvere alcune problematiche tipo se tu se il Signore ti ha chiamato che sei sposato con quella donna tu sei sposato con quella donna devi rimanere in quella situazione capite non è che dici vabbè ma questa non è credente abbandono questa e me ne trovo un'altra credente no perché qui dice devi rimanere nella condizione in cui Dio ti ha chiamato quindi se sei sposato rimani sposato con quella donna o con quell'uomo non è che il matrimonio si modifica o sparisce se invece sei separato perché può avvenire anche che tu ti trovi nella situazione che sei separato ecco allora se il Signore ti chiama in una situazione in cui tu sei separato o ti riconcili col tuo marito o ti riconcili con tua moglie se ciò è possibile altrimenti tu devi rimanere in quello stato non è che ti puoi risposare capite non ti puoi risposare devi stare in quello stato se invece nel caso no nel caso uno quindi è sposato due volte tre volte quattro volte da non credente adesso stiamo prendendo un esempio dei non credenti si sposano due tre volte poi il Signore ti salva salva il non credente che si è sposato due tre volte in quale stato deve rimanere deve lasciare una moglie ne deve prendere un'altra no deve rimanere nello stato in cui il Signore lo ha chiamato quando lo ha salvato perché se il Signore lo ha accettato come adultero e l'ha perdonato i peccati l'ha fatto nascere di nuovo gli ha rimesso i peccati in quella situazione ed è veramente nato di nuovo e il Signore ha operato e lui che ha stabilito che quella condizione fosse cioè che lui fosse salvato in quella condizione quindi non c'è niente da modificare deve rimanere con quella moglie lì che ha l'ultima l'ultima moglie che lui ha capite non è che deve tornare con la prima no deve rimanere sempre in quella situazione vedete quante situazioni risolve questo passaggio cosa diversa invece è quando uno è nato di nuovo poi si divorzia separa si divorzia si risposa ecco in quel caso è diverso perché è diverso non diverso come soluzione finale ma è diverso come conseguenze davanti a Dio perché chi si trova chi si è sposato più di una volta ed era già credente al secondo matrimonio allora lì lì ha peccato diciamo da credente quindi il suo peccato è più grave e lo deve riconoscere quindi deve riconoscere il suo stato di peccato di adulterio deve chiedere perdono al Signore affinché gli vengano rimessi i suoi peccati e deve stare anche lui nella condizione in cui si trova in quel momento quando viene perdonato altrimenti anche lui si troverebbe in una situazione diciamo di svantaggio nei confronti dell'adultero non credente perché nell'adultero non credente deve rimanere in quella situazione però anche il credente che ha peccato attenzione non è che noi diciamo che non ha peccato però benché abbia peccato non essendo l'adulterio la fornicazione è un peccato che non è non è imperdonabile anzi può essere perdonato ha la sua gravità ma è perdonabile quindi mediante la sua ravvedimento mediante il pentimento e la richiesta di perdono a Dio e della remissione dei propri peccati mediante questa richiesta è possibile ricevere il perdono dei peccati e quindi essere ristabilito davanti a Dio anche se il peccato è stato commesso è stato commesso da credente no? anche se perché purtroppo in questa situazione si trovano molti non pochi ma molti credenti perché nell'ignoranza sono stati ingannati da molti predicatori falsi da predicatori malvagi corrotti che hanno insegnato questa falsità che si potevano risposare cosa che invece è vietata dalle scritture hanno creduto a questi pastori corrotti e ne pagano le conseguenze perché hanno vissuto comunque una vita non proprio in pace serena ma sicuramente con un cuore angosciato solamente che nel momento in cui uno si pente il Dio è così misericordioso è grandemente misericordioso gli perdona riconosce il suo peccato lo deve riconoscere davanti a Dio e davanti anche ai fratelli dire signor peccato e il Signore gli rimette i peccati e viene ristabilito davanti a lui è chiaro che sia i non credenti che i credenti che hanno più di una moglie o più di un marito non possono ricevere incarichi pubblici infatti nelle istruzioni che Paolo ha dato a Timotio e anche a Tito per stabilire degli anziani dei diaconi nelle chiese c'è una delle caratteristiche importanti era quella che sia il diacono che l'anziano non deve essere deve essere sposato con una sola moglie con una sola moglie quindi solo in quel caso c'è una delle caratteristiche non solo quella caratteristica ma una delle caratteristiche per servire nella chiesa quindi se uno se uno vedete quindi comunque c'è differenza cioè non è che uno può pensare e dire io adesso comunque mi risposo tanto poi il Signore mi perdona le conseguenze ci sono perché tu poi non potrai avere nessuno incarico nella chiesa la conseguenza tra chi si mantiene puro fedele in tutte le cose al Signore tra chi purtroppo ha avuto un cammino più travagliato con queste conseguenze la differenza c'è però alla fine quello che importa quello che ci interessa maggiormente è quello comunque che il Signore perdona anche questo peccato e purifica da questo peccato la coscienza di chi l'ha commesso di chi l'ha commesso e lo ristabilisce e può entrare nel Regno Celeste questo è importante questa è la cosa più importante andiamo avanti ancora con la lettura vediamo quale altre cose ci dice l'Apostolo Paolo e dice ancora e così ordino in tutte le chiese vedete quello che Paolo sta dicendo non è che lo sta dicendo solo ai Corinzi come dire vabbè ma lo sta dicendo solo ai Corinzi no dice così ordino in tutte le chiese avete capito quindi queste cose che Paolo ha insegnato ai romani ai Corinzi che ha appreso direttamente da Gesù Cristo gli insegnamenti che Paolo ha insegnato non è che gli provenivano da lui provenivano da Gesù Cristo provenivano da Gesù e così li ha insegnati e così li insegnava e dava ordine in tutte le chiese nella stessa maniera non è che c'erano differenze tra una chiesa dall'altra capite poi dice ancora è stato alcuno chiamato essendo circonciso non faccia sparire la sua circoncisione è stato alcuno chiamato essendo incirconciso non si faccia circoncidere la circoncisione è nulla e la incirconcisione è nulla ma l'osservanza dei comandamenti di Dio è tutto ognuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato vedete ancora ribadisce quel concetto importante sei tu stato chiamato essendo schiavo non curartene ma se puoi divenire libero è meglio valerti dell'opportunità poiché colui che è stato chiamato nel Signore essendo schiavo è un affrancato del Signore parimente colui che è stato chiamato essendo libero è schiavo di Cristo voi siete stati riscattati a prezzo non diventate schiavi degli uomini fratelli ognuno rimanga dinanzi a Dio nella condizione nella quale si trovava quando fu chiamato vedete ancora una volta lo ribadisce talmente importante quel concetto che in pochi versetti l'ha ribadito tre volte e dicendo anche che quello era un ordine anche quello faceva parte dell'ordine di Dio poi qui ripassa parlare parlare ancora delle vergini e del matrimonio or quanto alle vergini io non ho comandamento dal Signore ma do il mio parere come avendo ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele io stimo dunque che a motivo della imminente distretta sia bene per loro di restare come sono poiché per l'uomo in genere è bene di starsene così sei tu legato a una moglie non cercare di esserne sciolto sei tu sciolto da moglie non cercare moglie se però prendi moglie non pecchi e se una vergine si marita non pecca ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela come abbiamo detto è chiaro che chi si sposa e marita e moglie che si sposano sono più impegnati anche in varie faccende capite nelle faccende nelle cure mondane tra marita e moglie sono impegnati quindi si dedicano come abbiamo anche già accennato prima si dedicano di meno alle cose del Signore hanno meno tempo una persona invece che non è sposata ha più tempo per dedicarsi totalmente alle cose del Signore cioè non è che uno ha più tempo per perdere tempo a fare cose inutili deve avere più tempo a disposizione per fare l'opera del Signore per stare al servizio del Signore per piacere a Dio in ogni cosa e ancora continuiamo la lettura ma questo io dichiaro fratelli che il tempo è ormai abbreviato tal che dorainanzi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero e quelli che piangono come se non piangessero e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero e quelli che comprano come se non possedessero e quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero perché la figura di questo mondo passa or io vorrei che foste senza sollecitudine chi non è ammogliato a cura delle cose del Signore del come potrebbe piacere al Signore ma colui che è ammogliato a cura delle cose del mondo del come potrebbe piacere alla moglie vedete abbiamo detto qui lo dice proprio chiaramente Paolo quel passaggio dove dice or io vorrei che foste senza sollecitudine vuol dire senza quegli stimoli carnali capite senza quegli stimoli carnali che purtroppo ci sono nell'uomo e nella donna capite cioè se ci sono quegli stimoli è chiaro sono dei chiari segni c'è stimoli talmente che ti portano ad ardere a stare non bene né tranquillo è chiaro che hai bisogno di sposarti è un chiaro segno quello se invece uno si sente proprio tranquillo può darsi può darsi che il Signore gli abbia dato il dono di non sposarsi se uno non ha questo tipo di sollecitudine di sofferenza nella carne quindi abbiamo detto che la donna maritata ha cura del marito e il marito ha cura della moglie e quindi si devono occupare sia del marito e del loro corpo no? or questo dico per l'utile vostro proprio non per tendervi un laccio ma in vista di ciò che è decoroso e affinché possiate consacrarvi al Signore senza distrazione ma se alcuno crede fare indecorosa verso la propria figliola nubile se la passi il fior dell'età e se così bisogna fare faccia faccia quello che vuole egli non pecca la dia a marito ma chi sta fermo in cuor suo e non è stretto da necessità ma è padrone della sua volontà e ha determinato in cuor suo di serbar vergine la sua figliola fa bene perciò chi dà la sua figliola a marito fa bene e chi non la dà a marito fa meglio la moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito ma se il marito muore ella è libera di maritarsi a chi vuole pur che sia nel Signore non di meno ella è più felice a parer mio se rimane con me e credo davvero anch'io lo spirito di Dio comunque Paolo spinge consiglia comunque se è possibile le persone a non sposarsi per dedicarsi maggiormente al Signore però se uno sente il desiderio e pensa di avere di di dover ricevere il dono il dono di sposarsi è chiaro che si deve si deve sposare non pecca non pecca però come dice l'Apostolo Paolo che si marita ha molte più cose su cui impegnarsi e quindi ha meno tempo ha più distrazioni e meno tempo quindi da dedicare a servire il Signore a fare le cose che piacciono al Signore e questo era oggi il messaggio che volevo darvi questa sera per quanto riguarda il divorzio e il matrimonio alcune cose che ricordavano il matrimonio a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén